Attilio, casomai allerto l'elisoccorso, no? Una notizia l'ho già fatta stamattina, ne faccio una anche oggi pomeriggio, siamo a posto. Per andare dove devi andare? Dove devi andare? A casa! Ancora, nada, ancora, un golpe, un golpe, forte, folla, lasca la vela... Lasca! Folla, folla! Si no te dai, folla, folla, ancora, 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 ancora! No, no, un'altra no! Golpezzo! Arriba! Oh! Golpezzo, golpezzo! E vai! Vai, ok! Attilio ricordati, cazza la randa! Silvia! Silvia, vedi che davanti a te c'è un cordoncino giallo piccolino? Ecco, cazzalo, cazzalo con forza! Ecco, strozza bene, che vada giù la vela! Ci vediamo, forse! Grazie per la visione!